Allora abbiamo parlato, eccoci al presidente Malagò, siamo in diretta con Rai 1, eccoci presidente, c'è Caterina Baligo in diretta, se vuole guardi, eccoci, siamo qui, siamo qui, guardi, i ragazzi come stanno? Eh non lo so, sono già entrati facili, ce li porta, ce li porta presidente, i ragazzi non sono ancora entrati, non lo sappiamo noi, è arrivato Pietrangeli comunque, è un ragazzo, arrivederci, grazie, ciao a tutti, presidente, presidente, ti prepari a me, non lo so dopo cos'è il seminario, sono passati da dietro? Sì, dopo sei da dietro ho presentato il significato di questo incontro oggi con Mattarella. Il significato è la storia che parte da novembre, ecco, e appunto, che poi si è imprezzosità anche di questa meravigliosa vittoria, perché inizialmente il giorno scorso era per festeggiare solo la Coppa Davis, il signore è stato bravo a mettersi un ulteriore valore aggiunto, per cui è un momento straordinario, poi mi sembra che è diventata una bellissima conflittudine dopo tanti successi, anche in altri sport, perché oggi in contemporanea avete visto il medalliere all'Olimpia di Giovannino Invernale, non avevo mai vinto primi nel mondo, insomma tanta roba. Cosa ha di così speciale che questa squadra di Davis e Sinner? Direi che è una squadra, quindi questa è una cosa speciale, se no non avrebbero vinto, e Sinner è, diciamo, quello che ha chiuso il cerchio di un percorso, secondo me che parte da molto lontano, che non c'è dubbio sono stati bravi tutti i tecci e spederazione a ragazzi questa soddisfazione. Ha detto che non vede l'ora di vivere la sua vittoria. E poi sono giovani che lascia molto sperare, sì è una cosa che abbiamo molto apprezzato, devo dire non solo lui, altri ne hanno parlato, ho visto Sono che per il fine ne aveva parlato prima, la squadra, insomma sulla CUP sono quattro singolaristi, probabilmente c'è anche un doppio, insomma singolo doppio, doppio misto, adesso ne parleremo durante il discorso, però sono cento anni che non diciamo una medaglia nel tennis e ora anche questo tabù di sfatarlo. Tornerà Berrettini? Certo. Grazie. 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 Grazie.